Ancora polemiche per la questione Stadio San Paolo in città. Dopo l'esordio casalingo del Napoli contro il Milan, con la squadra di Ancelotti che ha conquistato i tre punti in rimonta, moltissimi tifosi sono rimasti a piedi dopo il triplice fischio a causa del mancato prolungamento delle corse della Metro 2. E proprio la questione trasporti è uno dei punti nevralgici della convenzione non rinnovata tra Aurelio De Laurentiis e Palazzo San Giacomo. A fare il punto della situazione e ad aprire uno spiraio per una soluzione che gioverebbe a comune SSC Napoli è Ciro Borriello, assessore comunale allo sport. La situazione è fluida in questo momento, nessuno eviterà mai al calcio Napoli di giocare allo Stadio San Paolo, quindi questo deve essere chiaro a tutti. E' chiaro che c'è da definire alcune questioni che sono di carattere amministrativo, che sono questioni che poi non interessano ai tifosi, perché ai tifosi interessano che Napoli vinci come ha fatto e come sta facendo e come sta continuando a fare. Per cui è chiaro che noi dobbiamo affrontare bene questa questione, dobbiamo renderla quanto meno bellicosa possibile. E' anche chiaro che però alcune questioni vanno risolte, non è possibile che una squadra di Serie A di questa portata utilizzi un campo in una maniera anomala, particolare. Non ci sono altri esempi in altre città. Poi se De Laurenti si vuole offrire la partita gratuitamente, allora noi non lo facciamo pagare, ma non è così, non è questo il modo di andare avanti. Siamo in una fase complessa, delicata, però credo che tra qualche giorno, magari dopo la causa del campionato, si potrà venire sicuramente a un momento di confronto. Certo è che se si fosse firmata quella convenzione ci sarebbe stata anche la possibilità di usufruire di qualche corsa dopo la partita. E' chiaro che in altre città avviene così. Nella nostra famosa convenzione io ho scritto chiaramente che se si fosse firmata avremmo avuto qualche corsa, visto che noi ci accogliamo un onere che non è secondario, è quello del costo dei vigili urbani, cose che in altre città non avviene. Quindi c'erano dei vantaggi sicuri, c'erano dei vantaggi sicuramente per i tanti utilizzatori dello stadio, i tanti tifusi. Non lo chiamerei atteggiamento morbido, è chiaro che noi abbiamo avuto sempre un profilo estremamente collaborativo, questo è sicuro. Probabilmente siamo nella fase in cui questa collaborazione sta venendo a mancare, non è che le collaborazioni devono essere unilaterali. Grazie a tutti.